Buona domenica, buon anno soprattutto, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, anno 2020 che apriamo con una domenica scoppiettante, ricca di gol, la Serie D che apre il calcio abruzzese perché Serie B e Serie C sono ancora ferme, allora è la quarta serie a tenere banco, aspettando però il posticipo di domani che ci riguarda da vicinissimo perché è uno scontro tutto abruzzese, quello tra il Chieti e la Vastese, si gioca ad Ortona per l'indisponibilità che sapete tutti dello stadio Guido Angelini di Chieti, però che cosa è successo oggi? La capolista notalesco continua a vincere, vince anche il Matelica che risponde alla formazione di Roberto Vagnoni, clamoroso quello che è successo a Campobasso dove l'Avezzano sembrava oramai aver perso la partita 2-0 contro i Molisani, nel finale in pochi istanti riagguanta la partita 2-2 e poi purtroppo non va oltre il pari interno il Giulianova contro il Porto Sant'Elpidio, sconfitta per il Pineto di Amalo che tornava proprio oggi ufficialmente sulla panchina bianco-azzurra e però va male perché vince il Fiugi che peraltro aveva battuto il notalesco proprio prima di Natale. Insomma i temi sono tanti da sviscerare questa sera, ovviamente con uno sguardo anche a quello che potrebbe succedere domani perché è una gara delicata sia per la Vastese che per il Chieti, situazioni di classifica differenti. Vi ricordo che potete interagire con noi qualora lo vogliate al 392-623-7060 che ovviamente ringrazio tutti quelli che ci seguiranno ma soprattutto tutta la squadra di TV6 che riparte con l'abruzzo del pallone. Questa sera siamo in un'altra parte dello studio perché la parte in cui normalmente siamo è in fase di ricostruzione, più in là magari vedrete delle belle novità anche dal punto di vista scenografico, speriamo che vi piacciono ma bisogna attendere ancora un po'. Saluto gli ospiti a cui do ovviamente la buona serata ma soprattutto il buon anno a Luca Di Pasquale. Ciao Luca, ben ritrovato. Buonasera a voi. Senza voce. Scusate senza voce perché non ti preoccupare ci mancherà. Ringrazio gli amici di Casalbordino per le corredie fatte negli ultimi giorni. Ok, ok. E poi Francesco Daniello, ciao Ciccio, ben ritrovato e buon anno anche a te. Salve, buonasera a tutti e buon anno a tutti quanti. E poi un buon anno in redazione, lo saluto, vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti e di nuovo buon anno. Ok, ti sentiamo pochissimo però tra un po' magari ti sentiamo un po' meglio. Comunque vediamo i risultati con l'ausilio della grafica. Prima giornata di ritorno del campionato di serie di Girone F. Atletico Fiuggi, Pineto 2-1, Capobassa Vezzano 2-2, il Matelica vince a Cattolica 2-1. Giulianova, Atletico Morto Sant'Elpidio 1-1, Montegiorgio Nionese 0-1, Re Canatese, Isina 3-2, San Giustese Tolentino 1-2, Vasto Gerardino Otalesco 1-3. Domani, come detto alle 14.30, c'è Chieti-Vastese. Vediamo la classifica, qui il Notalesco continua a mantenere i nuovi punti di distacco sul Matelica, 46 per il Rosso-Blu di Vagnoni, 37 per il Matelica, 36 per la Re Canatese, 32 per il Campobasso, 30 per il Montegiorgio, 27 per il Pineto, 26 per Vastese-Agnonese. Ma come vedete la Vastese, come il Chieti dall'altra parte, hanno una partita in meno a quella che si giocherà domani. 24 punti per il Fiuggi, 22 per il Vasto Gerardi, 21 per il Tolentino, 19 per l'Atletico Morto Sant'Elpidio, 18 per il Giulianova, 17 per Chieti e San Giustese, 15 per l'Avezzano, 12 per la Iesina e il Cattolica, che chiudono la classifica. Prima di iniziare la discussione, soprattutto vedendo la gara di Agnone tra Vasto Gerardi e Notaresco, fatemi dire che questa è una prima puntata che virtualmente, soprattutto la quarta serie, ma anche noi che la raccontiamo con un po' di, purtroppo, un po' di tristezza, perché lo sapete tutti, la prematura scomparsa di Raffaele Sant'Agata, che è stato ameritato nella San Giustese, fino a qualche stagione fa, un ragazzo giovanissimo che era passato al Casarano, se non erro, e che è scomparso proprio durante le festività natalizie. Ci tenevo particolarmente perché, e Andrea mi è testimone, Andrea, di questo ragazzo avevamo detto, anche quando era andato in rappresentativa, quanto fosse bravo e promettente Raffaele Sant'Agata. Davvero è una tragedia che si fa fatica a spiegare, una malattia l'ha portato via, davvero una promessa del calcio, però siccome ne avevamo parlato in più di una circostanza di questo ragazzo, è giusto ricordarlo, è giusto ricordarlo intanto perché è una vita molto giovane che si è spezzata senza un reale motivo, questo ha lasciato rattristati tutti coloro che seguono questi campionati, che lo hanno conosciuto nella sua, seppur brevissima carriera. Noi proprio da questi studi più volte lo abbiamo citato, pur non giocando con una squadra abruzzese, ma come uno dei migliori prospetti del raggruppamento, perché lui ha giocato in queste stagioni con la Sangiustese e poi a inizio di questa stagione si era trasferito al Casarano. Insomma, non ci resta che stringersi al dolore della famiglia, ripeto, per una morte incomprensibile che ha gettato nello sconforto un po' tutte le squadre di questo girone che lo avevano affrontato o che, come nel caso della Sangiustese, lo avevano coccolato. Quindi un abbraccio a tutta la famiglia. Assolutamente, assolutamente. Peraltro ne avevamo parlato proprio la stagione scorsa con Tiziano De Patre. Ed eri presente anche te, Luca. Ne avevamo parlato perché quando Tiziano era ancora CT della rappresentativa della LND, ne avevamo detto quanto questo ragazzo fosse bravo e promettente. Torniamo adesso al campionato, rapidissimi, perché poi andiamo a vedere subito il servizio di Vasto Giardino Taresco. Che cosa vi ha colpito della giornata di oggi, Luca e poi Francesco? Secondo me la vittoria del Tolendino a Sangiusto è stata una vittoria che, tra l'altro, ha spaccato anche la classifica. Perché già un pareggio poteva essere importante anche per le formazioni abbraccesi. Invece il Tolendino, visto pure in Coppa Italia a Pineto, con i ritocchi che ha avuto nel mercato di dicembre, ha dimostrato che mi è sempre piaciuto come quadratura di squadra. Solo non riusciva a fare punti. Oggi, nei ultimi filotti di 4-5 partite, si è tirata fuori. Il Rocambolesco pareggio dell'Avezzano a Campobasso è stata una sorpresa in prospettiva della prossima gara di Notalesco-Campobasso. E, sinceramente parlando, poi il Pineto, che ha a Fiuggi, quantunque sono uno dei migliori attacchi del campionato, anche quello dei Fiuggi. Credo che il Pineto, qualche punticino, potesse riportare a casa. Che, in effetti, credo che abbiano segnato la prova a fine dell'Avezzano. Sì, 1-1 e poi subito il 2-1. Di fatto... Per il Resco, più o meno, Forza Ragnonese, una squadra che a me non mi è dispiaciuta a Notaresco e non mi è dispiaciuta neanche a suo tempo con la Recanatese. È una squadra che è quadrata. Vincere a Mondegiorgio, che forse, secondo me, è la squadra più forte come prospettiva del Girone, come sorpresa. Per il resto, più o meno, sono quelli i risultati. Io, invece, al di là dei 90 minuti di oggi, volevo fare i complimenti assolutamente al Notaresco. Sta avendo una marcia impressionante e credo che i complimenti vanno alla società e soprattutto a Paolo D'Ercole per quello che hanno creato quest'anno. Nonostante tutto, anche oggi, hanno fatto un'ottima vittoria a Vasto Girardi, quindi nessuno si aspettava e i complimenti vanno a loro. Allora, qui intanto devi acquistare almeno altri due calciatori che andano al Presidente Paris, altrimenti sarà eccellenza. Peraltro, Gerardo Masini è tornato in Italia, proprio ad Avezzano, di fatto a fare chiuso il 31 dicembre. Oggi era in panchina, poi è entrato nel corso della gara. Però, chiaramente, questo è un innesto importante. È un ex penne, lauretum, canistro, teram. Intanto, cos'è? Un pensionato oggi mi ha chiesto ma se riporto l'abbonamento a Bartolini, deve essere tifoso di Giuliano, mi dai i soldi per fare l'abbonamento al Ciro? Così sto due ore anche al caldo. Perché effettivamente, magari... Vabbè, chiaramente un messaggio ironico. Dicevamo, notaresco, che sta prendendo Francesco Scotti. Visto che tante trattative con tanti portieri non sono andate a buon fine per vari motivi. Ricordo Gomis, Feola, l'ultimo in ordine di tempo, Lewandowski, non è stato trovato l'accordo con il Teramo. A proposito, poi vi daremo anche qualche news di mercato sul Teramo che non riguardano l'attacco, riguardano la difesa. E allora arriva Francesco Scotti. Però io direi, visto che abbiamo parlato, e io di solito sono abbastanza prolisso, mi perdo in chiacchiere. Facciamo così, diamo spazio alle immagini. Vasto Girardi, notaresco, 1 a 3. Servizio. Comincia con un duro banco di prova il 2020 del Vasto Girardi con la sfida alla capolista San Nicolò notaresco. Mister Farina deve fare i conti con l'indisponibilità di Ruggeri, Cherema Tenghe e Devizia e si affida alle giocate di Petrone per il regolare svolgimento designato il signor Cannata della sezione di Faenza. Altomolisani coraggiosi, tant'è che producono il primo pericolo per gli ospiti. Bruni non riesce a dar forza al suo destro che diventa facile preda di Monti. Ma al quarto d'ora passa la capolista. Siaulis deve uscire dall'area con un colpo di testa. Stivaletta recupera in tempo, cosa che non riesce al portiere locale che blocca il pallone quando ha già varcato la linea di porta e siamo sullo 0 a 1. Corner per i padroni di casa. Sbuca Corbo, pallone ancora tra le braccia di Monti. Alla mezz'ora occasione che grida vendetta quella del vasto Girardi. Diagonale di Petrone, palla sul palo. Mino a botta sicura spedisce sull'incrocio dei pali. Ospiti fortunati nella circostanza. Al 39esimo, Di Lullo deve fare le veci di Ruggeri sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ma il portiere Terramano si rifugia in corner. Al 40esimo premiati gli sforzi del team di Farina. Petrone ci delizia con una sua giocata. Sublime pennellata per Bruni che supera Monti per il punto dell'1 a 1. Situazione di parità con la quale le due squadre guadagnano gli spogliatoi nella ripresa punizione in favore dei rosso-blu. Calcio a Frulla, sfera lontana dalla porta di Siaulis. Analoga situazione al 14esimo. Ci riprova lo stesso Frulla. L'estremo difensore giallo-blu fa suo il pallone. Alla ventunesimo, ghiotta chance per il vasto Girardi. Migno lanciato a rete, sciupa come peggio non poteva. Ciò che alludeva glorioso. Al 32esimo la svolta Sansovini. Chi altro, se non lui, poteva inventarsi il gol dell'1 a 2. Una marcatura di ammirevole fattura. E siamo sullo nuovo vantaggio per la capolista. Ma di lì a tre minuti si prende la scena anche il nuovo entrato Liguori con un'altra perla grazie alla quale la prima della classe prende il largo con un 1-2 micidiale. Al 38esimo, rosso per Pasquale Di Lullo. Chiude in 10 il vasto Girardi che esce a testa alta con una sconfitta contro il notaresco ed acquisisce maggiori certezze però in quanto alla lodevole prestazione oltre ad aver chiuso la contesa con ben 7 under in campo in virtù delle pesanti assenze. Un altro segnale positivo. In partite importanti come queste ci si affida anche alle giocate dei singoli. Sì, sì, è una partita difficile. Contra la squadra che conoscevamo, molto temibile, le condizioni attivo svegli che hanno favorito loro il primo tempo, secondo noi. Che ti posso dire? Quando si vince 3-1 magari è anche meritato. Però la squadra prestale ha fatto una buonissima partita e quindi siamo contenti, come hai detto tu, che è un messaggio importante che diamo a noi stessi e ripartire era fondamentale. Ecco, un girone di andata ha più da incorniciare. Forse neanche il più ottimista dei tifosi poteva pronosticare un 14 vittori, due sconfitte ed un solo pareggio ma come si dice, la vera forza è restare in vetta una volta che la sia raggiunta. Ci siamo arrivati per gioco, ci siamo arrivati per gioco. Adesso ci siamo condizionati a queste vittorie. Ci siamo resi conto che siamo una buona squadra. Adesso tocca a noi provarci e insistere e cercare di rimanere lì fino alla fine e dare battaglia fino alla fine. Perché come si dice, inseguire è molto più facile che essere inseguiti e per chi deve vincere nessuna partita è facile. No, poi davanti sei solo e le altre sono tante, quindi per noi sarà difficile ma lotteremo fino all'ultimo. Questo è sicuro. Marco Sansovini, innanzitutto complimenti perché non so quanti al posto tuo avrebbero combinato roba del genere in quella occasione ma tornando alla partita in situazioni come quelle ci voleva una giocata di un singolo. Intanto grazie per i complimenti che si fanno sempre piacere. Ma di là della singola giocata credo che sia stata una partita da parte nostra ben giocata soprattutto nel secondo tempo. però dobbiamo rimarcare un primo tempo comunque solido dove siamo passati in vantaggio e dove l'abbiamo finito non in svantaggio era importante anche perché c'era un vento veramente forte contro al primo tempo quindi si rischiava di prendere più di qualche gol ma ci siamo stati bravi tutti quanti. Ecco, è un segnale di rilievo questo? perché giustamente come si dice inseguire forse è più facile che essere inseguiti avete diversi punti di vantaggio e sta soltanto a voi? Sì, sì, ora come ora sicuramente sta soltanto a noi però noi ci dobbiamo pensare ma fino a un certo punto adesso ci riposiamo domani e come tutte le settimane ripartirà una nuova settimana per programmare la prossima partita e prepararla al meglio perché l'unica cosa che conta è la prossima partita. Prossima partita appunto un'altra molisana il Campobasso che comunque lotta per un posto perlomeno al momento per i play-off si è fatta rimontare proprio nel finale con l'Avezzano. Sì, però è una squadra fatta di ottimi giocatori ben allenata è una piazza importante che merita sicuramente altri palcoscenici. L'affrontiamo con la consaporezza appunto di affrontare una squadra forte che verrà notaresco a fare punti noi dobbiamo essere sempre solo noi stessi. O essere sempre e solo noi stessi dice Marco Sansovini che è il vero, probabilmente protagonista di questa stagione tra gli attaccanti. Intanto nuovo vantaggio del Genoa sul Sassuolo vantaggio con Cricito pareggio di Obbianga adesso Vandev. È chiaro Luca che stare davanti farsi inseguire è sempre meglio che inseguire perché inseguire non puoi sbagliare mai. però prima di andare in onda stavamo riflettendo su quali sono quale potrebbe essere il punto di svolta del notaresco cioè le prossime tre partite. Le prossime tre o quattro partite secondo me sono il mandicolo uguale a quelle del mister Vagnoli. Sì! Ti ha battuto secondo te ti ha battuto comunque sulla voce bassa? No perché giustamente facendo risultati con Lavezano Iesina e Campobasso lo stesso domenica prossima come esige non dai fiato agli altri di reagire e mettere nelle condizioni di un ipotetico potenziale recupero che secondo me è molto remoto. Però ecco la vettoria di oggi è importante perché si sa dietro le riprese dopo le feste natalizie come dice nel gioco calcistico la caiole è sempre dietro l'angolo. In gergo! Quindi invece giocare in un campo difficile una squadra che secondo me basta girarti non è male quindi credo aveva delle diverse assenze. Sì cioè mancava Ruggeri che è il capitano mancava Chiere Mateng che di fatto è uno dei insomma è una stacca che sapremmo è una stacca quindi non era non era semplice oggi nemmeno per il per il vasto Girardi o Francesco ti faccio commentare lo so che è brutto però il primo gol di Stivaletta abbiamo fatto anche una minimo viola non vi sembra che scuso l'incolpevole mister Achini il Pieto Calcio sia prima un progetto che è ben strutturato per fare il salto di qualità poi ne parliamo e poi parliamo proprio della situazione in casa Pineto soprattutto perché poi vi faremo sentire anche le parole del patron Silvio Brocco Francesco ti faccio commentare la moviola del gol di Stivaletta perché oggi insomma questo Siaulis non è che abbia convinto tantissimo innanzitutto bella l'idea di Stivaletta e tirare direttamente in porta poi poi va respinta quella palla abbia perso totalmente la posizione della porta anche perché stava andando lì indietro in primis secondo me visto la posizione del corpo poteva anche smanacciarla alta sì sulla traversa e magari concedere il calcio d'angolo a questo punto invece voleva bloccarla e se le portate in porta però non capisco perché me la fai commentare no 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 vabbè era solo perché comunque secondo me non sai perché in fondo perché avevo luglio a Vasto Girardi che c'era il ragazzo no 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 perché te potevi essere uno al posto di Stivaletta e poteva tirare anche in porta che a te ti sarebbe venuto in mente quel tiro o no ho visto che fino a pochi giorni fa avevo il portiere luglio il 2000 che era Vasto Girardi ah no 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 non era voluto era andato a Lucca e loro hanno deciso di prendere il ragazzo del 99 pensavo che era per questo no 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 tra i pari anni come diceva Sanzovini giocavano a favore di Vento quelli del Vasto Girardi quindi fare una cappellata di quelli secondo me anche molto io posso capire il Vento te lo dire anzi il Vento era a favore del Vasto Girardi doveva rallentare il tiro quindi ancora maggiore la cappellata da mio giudizio era la prima c'è l'impatto all'esordio Andrea allora i prossimi faccio il conto 9, 18, 23 270 minuti in casa con il Campobasso e poi doppia trasferta Iesina e Avezzano saranno fondamentali per il notaresco quanti punti secondo te devi mettere insieme per cominciare ad avere non mi dire 9 no vabbè è chiaro che dipende anche molto da quello che fanno le dirette rivali Matelica e Re Canatese uscire ci metterei anche la gara di oggi e ci metterei anche la gara di Fiuggi perché era trasferta trasferta in casa con il Campobasso e poi altra doppia trasferta quindi 5 partite 4 trasferte è chiaro che se il notaresco esce fuori con un vantaggio intatto di queste dimensioni attuali sarebbe davvero un affare perché questo è il momento in cui il notaresco dovrebbe agli occhi delle avversarie dare segnali di cedimento 4 partite in trasferta rallentamento le avversarie rosicchiano punti e cominciano a mettere pressione verso una squadra che non era abituata a questo tipo di torneo che sta giocando e da febbraio marzo la pressione si farà sentire sempre di più sarà schiacciante quindi mantenere questo vantaggio sarebbe fondamentale quindi io non ti rispondo con un numero di punti secco ma ti rispondo che sarebbe fondamentale restare con questo vantaggio se poi fosse addirittura aumentato tanto meglio in quest'ottica è fondamentale aver vinto quest'oggi una gara difficile contro una squadra che ad Agnone fa tremare tutte le squadre le fa soffrire tutte e quindi aver fatto questo colpo è assolutamente significativo come significativo ancora una volta nel momento del bisogno il campione della categoria ovvero Marco Sanzovini tira fuori il coniglio dal cilindro poi un altro giocatore di grande talento che è tornato quest'anno che non sta trovando molto spazio entra e segna un gol di quella fattura mi riferisco a Michael Liguori beh tutto gira per il verso giusto chiudo dicendo che la partita di domenica è fondamentale per la classifica e lo sarebbe stato ancora di più se oggi Notaresco non l'avesse vinto e il campo basso lo avesse fatto invece addirittura c'è stato l'allungo nel Notaresco ma siccome ci sono delle vecchie frizioni tra una parte del campo basso perché lo staff tecnico direttore sportivo allenatore erano a Notaresco diversi giocatori erano a Notaresco lo scorso anno io spero che domenica tutte le attenzioni siano sul campo che non accada nulla che si mantenga tra virgolette la calma e che tutte le energie siano messe da dirigenti giocatori e pubblico verso la propria squadra per spingerla alla vittoria perché in un momento magico in una stagione magica come questa non bisogna compiere nulla per guastare la prossima partita e anche il proseguo del campionato il Notaresco deve pensare solo e soltanto al campo e a battere il campo basso sul campo dopo averlo già battuto all'andata perché non c'è cosa migliore che batterlo tutto il resto non conta bisogna fare risultato e mantenere il vantaggio della classifica e puntare ad un obiettivo straordinario il resto lo ripeto non conta Francesco sono perfettamente d'accordo con Andrea tornare dalle vacanze di Natale quindi da una sosta insomma di qualche giorno tornarci da capolista e avere sapere di avere una trasferta così delicata poteva effettivamente essere una trappola però hanno reagito bene io vedo adesso in giro una squadra al di là della posizione di classifica molto serena capitanata da tra virgolette due vecchietti compreso Frulla tre che è Marco Sanzovini Pomante adesso arriva anche Scotti sì Francesco Scotti che è un ottimo portiere soprattutto una gran persona perché inserire un giocatore a dicembre dopo averne perso uno importante non è semplice e credo che con Scotti abbiano fatto la scelta giusta soprattutto sul piano umano perché poi dopo bisogna vedere anche attraverso altri valori non solo quelli del del calcio in sé per sé anche perché quando sei in quella posizione di classifica gli equilibri sono talmente delicati infatti era per quello infatti dicevo che è una gran persona perché credo che in quel contesto già costruito da un bel po' mettere una persona che magari crea scompiglio non fa bene alla società e alla squadra lui è l'uomo giusto secondo me in questo momento poi dopo ripeto bisogna solo fare i complimenti fino ad oggi perché è stata una squadra che ha concesso poco ha fatto 46 punti gioca bene che dire niente li ho visti anche abbastanza sereni quindi assolutamente sì ho molti meno punti ai noi ha fatto il Giulianova che oggi ha pareggiato contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio vediamo il servizio 1-1 firmato da Paolo Renzetti dopo tre sconfitte consecutive con un solo punto all'attivo conquistato nelle ultime quattro gare il Giulianova inizia il 2020 con un pareggio che non può far fare salti di gioia e che conferra nel momento difficile per la formazione del presidente Bartolini che resta così invischiata in zona rischio Alfadini giallorossi si presentano con la novità di Bifulco in porta squalificato Barlafante in attacco spazio al giovane Cesario si comincia al piccolo trotto e con tanto equilibrio e con le due squadre che si annullano affrontandosi nella zona di centrocampo al 29esimo al primo vero affondo la squadra di casa si porta in vantaggio con Federico Di Paolo che inventa e con Cesario che si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol del vantaggio e primo assoluto per l'ex attaccante della Bagica Lupo Vasto in serie D esplode l'esultanza dei tifosi giuliesi per un gol importante che rompe l'equilibrio di una gara davvero molto molto difficile per i padroni di casa e ci crede la squadra del tecnico del grosso che al 34esimo si rende nuovamente pericolosa con Cipriani che prova a trovare il gol della domenica con la sfera che non inquadra però lo specchio della porta la reazione dei marchigiani si fa attendere ma al 37esimo Cucù tutto solo davanti a Bifulco si fa respingere il suo tiro dal prodigioso intervento dell'estremo locale il match ora è vivace con le due squadre che si allungano e con le emozioni che aumentano al 39esimo si rivede il Giulianova con Federico Di Paolo che mira l'incrocio e con Gagliardini che però reattivo andando a deviare il pallone in calcio d'angolo ultimazione del primo tempo targata ancora Giulianova con Torelli che in area bianca-azzura controlla e tira mettendo di un soffio alto nella ripresa al nono subito pericolosi gli ospiti con il neoentrato Niane che in area vede il suo tiro deviato finire in calcio d'angolo gli ospiti però appaiono determinati al secondo tentativo trovano al 19esimo il pareggio c'è un tiro di Ruzzi che viene respinto da Bifurco con Niane che è il più lesto di tutti con il tapin vincente che regala la sua squadra il gol del pareggio doccia gelata per i padroni di casa che accusano il colpo non riuscendo più a rendersi pericolosi anche a causa di un calo fisico cerca così di approfittare invece la formazione bianca-azzura che al 35esimo una ghiotta occasione con Ruzzi che con un tiro violentissimo sfiora il palo della porta giuliese dopo una bambola di Bifurco e compagni passano i minuti con i locali che soffrono riuscendo però al 41esimo a rendersi nuovamente pericolosi con Cesario che ha una buona opportunità con la sua conclusione che però non inquadra lo specchio della porta marchigiana 90 secondi dopo l'attaccante giuliese va a commettere fallo su Niane lanciato in contropiede rimediando il rosso diretto lasciando i suoi compagni in 10 in un finale di partita che non regala però altri sussulti con i ragazzi del tecnico del grosso che escono dal campo al 95esimo tra i fischi dei propri tifosi delusi dalla prova offerta dalla squadra Giulianova che dovrà invertire la rotta ad iniziare già dal derby di domenica prossima all'Aragona di Vasto Giulio un pareggio che non può far fare salti di gioia a Giulianova eravate comunque riusciti a sbloccare questo risultato poi è arrivato nel secondo tempo il pareggio del Porto Sant'Empidio che ha giocato meglio soprattutto nella ripresa Sì hai detto benissimo insomma al primo tempo abbiamo fatto la nostra partita siamo stati siamo stati bene in campo siamo andati meritatamente in vantaggio abbiamo avuto anche qualche occasione per poter raddoppiare al secondo tempo siamo proprio siamo proprio crollati insomma hanno tenuto campo bene loro hanno avuto più occasioni e non è così assolutamente così una squadra che vuole salvarsi non deve affrontare così i 90 minuti o i 95 minuti insomma abbiamo perso tutti i contrasti e questo ci dispiace perché insomma la corte nostra c'è sempre il massimo impegno cercare di far capire quale deve essere la mentalità giusta per salvarsi oltre che passare attraverso il gioco insomma attraverso l'agonismo e la cattiveria che in queste partite fanno la differenza l'espulsione di Cesario nel finale fotografa un po' forse il momento del Giulianova anche un po' di nervosismo quando non arrivano i risultati e così beh sì ci dispiace perché insomma è un ragazzo secondo me importante che può fare bene è il primo anno che fa questa categoria però insomma ha fatto 70 metri di campo pur di recuperare palla ma non c'è nulla da dire anzi è quasi inciampato quindi ci poteva anche non stare secondo me l'espulsione anche se farlo poi a vederlo sembrava cattivo ma non era sicuramente volontario classifica che resta deficitaria alla vigilia del derby domenica prossima difficile all'Aragona con la vastesa classifica che oggi ci avrebbe permesso di stare meglio però insomma siamo lì ci dispiace tantissimo ci prendiamo comunque questo punto visto insomma come erano andate le altre partite sarà dura fino alla fine ci sarà da lottare fino all'ultima giornata ma questo lo sapevamo è importante capirlo che sarà così fino all'ultima giornata prima di tutto sono soddisfatto dei ragazzi sono soddisfatto della prestazione perché venire qui a Giulianova e provare a giocare già secondo me è una cosa molto positiva sono soddisfatto dei ragazzi perché hanno riacciuto dopo l'1-0 del primo tempo e poi il risultato alla fine è l'unico rammarico che stiamo perdendo tantissimi punti ma non oggi ma anche in altre partite è l'unico rammarico che ho però dei ragazzi dell'attenzione di come giochiamo di come hanno voglia non posso rimproverare niente sono contentissimo stiamo sulla buona strada l'unico problema è i punti perché poi alla fine quello che conta sono i punti ecco Di Mengo diceva il problema sono i punti l'unica cosa che mi preoccupa ora mettiamo per un attimo da parte non ce ne voglia Mengo del Porto Sant'Elpidio e perché lo stesso problema Francesco ce l'ha il Giulianova Beppe Giglio nell'intervista del nostro Paolo Lorenzetti ha parlato di cerchiamo di far capire che ci vuole agonismo cattiveria bisogna stare sempre concentrati quasi come io non lo so quasi come se questa squadra non l'abbia proprio dentro queste caratteristiche però siamo a gennaio questo dispiace soprattutto vedere un un Fadini così vuoto io ci ho vissuto tre anni quindi so che cosa significa giocare a Giulianova mi dispiace per per Giglio per Del Grosso perché mettono l'anima però io credo che nell'arco di un anno c'è bisogno in primis di organizzazione e programmazione quello che il Giulianova negli ultimi anni non ha mai avuto non si può partire ogni anno con una vendita societaria con una difficoltà economica non si sa se si va avanti creare un gruppo all'ultimo ricordo che il ritiro sono partiti in 20 ragazzi queste le paghi sono cose che le paghi se non vengono programmate poi naturalmente bisogna dare attacca a Porto Sant'Epitio che secondo me Mengo al di là delle ultime partite che ha raccolto pochi punti come dice però con una squadra del genere salito l'anno scorso sta facendo un attimo campionato cosa che vedo difficile a Giulianova che si riesca a venirne fuori così facilmente come dice Giglio c'è da lottare fino all'ultima giornata e se questi sono i presupposti soprattutto come nel secondo tempo credo che si faccia fatica ecco a me hanno un po' non so Luca a te hanno colpito un po' le parole di Giglio perché insomma è stato molto sincero ha detto nel secondo tempo effettivamente loro hanno giocato meglio noi abbiamo perso tutti i contrasti ma cioè la rosa adesso da qui alla fine più o meno questa sarà cioè il Giulianova è alla prima del girone di ritorno e ha 18 punti cioè il girone di ritorno è partito adesso ci vuole un cambio di marcia altrimenti per la salvezza è dura ma il problema del giocareto Giglio è il fatto che io posso capire fare una partita un po' sotto tono fuori casa ci può anche stare ma se tu in casa non ci metti quel cosiddetto in più quel mordente che come diceva giustamente Francesco che ci ha giocato il Fatini ti spinge a dare qualcosa in più se non viene neanche quello io credo che si fa veramente fatica come io vi so già più volte anche la Iesina e il Cattolico sono squadre che mettono qualcosetto in più e il Giovanove in casa quest'anno ha dato molti punti alla scuola avversaria anche il sconto di rettico Tolentino sono punti che alla lunga sai che con loro devi fare punti non perdi in casa con notare qualcuno è rimasto dispiaciuto ma ci può stare con una tele carica anatese va bene ma il sconto di rettico Iesina San Giustese Porto San del Piedio Tolentino devi fare la tua e credo che questi sono quei 3-4 punti che al Giovanove mancano giustamente l'impostazione della società come diceva Francesco è importante per un'altra come in Giuliano la gestione la gestione anche del mercato se ne vuole parlare molti anche nelle settimane scorse prima di Natale dopo la finestra invernale alcuni tifosi ci avevano anche scritto insoddisfatti di come Giuliano si era rinforzato nel mercato invernale Jacopo non tanto sugli acquisti credo io perché poi dopo chi è arrivato c'era già l'anno scorso che aveva fatto bene ma lo stesso Bifurco penso che qualche settimana fa se non dieci giorni fa era messo fuori attualmente è in campo da titolare lo stesso Suriano che aveva fatto benissimo nelle ultime due partite mentre attualmente si ritrova fuori anche lui nonostante tutto è un giocatore del Giulianova a tutti gli effetti e rimarrà fino a fine anno queste cose qua credo che facciano male al gruppo e alla squadra nella gestione generale di un anno Andrea te che ne pensi? che avete ragione quando avete sottolineato le parole di Giglio perché il Giulianova ha dei problemi di natura tecnica lo abbiamo già detto e se il Giulianova a casa sua non mette quel mordente non fa tra virgolette sportivamente la guerra è difficile arrivare all'obiettivo per una squadra che ha questi valori tecnici aggiungo Bifulco e Di Piero sono stati sempre in ballottaggio per un periodo di tempo si alternavano anche questa è una cosa piuttosto anomala poi negli ultimi tempi aveva giocato Di Piero oggi è ritoccato a Bifulco aggiungo che dopo gli ultimi errori anche un totem come Diamutene oggi è andato in panchina e i centrali hanno giocato Nazari ok e poi Ferrini che è un giocatore un po' adattato o meglio nasce centrale ma negli ultimi tempi ha giocato terzino quindi insomma per essere un giocatore di quel livello e dovrebbe essere una colonna di Giulianova che parta dalla panchina fa un po' specie magari non era al 100% però detto questo e oggi non era al 100% Francesco Di Paolo e ha giocato Vitelli detto questo è una squadra che ha bisogno di mettere grande agonismo soprattutto Alfadini altrimenti la salvezza si fa difficile assolutamente poi peraltro settimana prossima c'è anche il derby con la Vastesi all'Aragona che non è per niente facile oggi gol di Cesario in maglia giallorossa da quando è arrivato dalla Bacigalupo poi però la partita l'ha terminata anzitempo e infatti ha preso il rosso che gli farà saltare proprio la partita con la Vastesi vediamo peraltro Jacopo scusami quello di oggi è il secondo pareggio nelle ultime 5 partite quindi da dicembre dal mese di dicembre quindi in questi 40 giorni scarsi Giulianova in 5 partite ha fatto 2 pareggi e 3 sconfitte e in queste sconfitte c'è anche l'1-2 col Tolentino sconto diretto in casa oggi era un altro sconto diretto in casa cioè c'è bisogno di invertire la rotta dal punto di vista dell'atteggiamento che deve essere maggiormente bellicoso ma sempre da un punto di vista sportivo sì anche perché poi insomma vedevo il calendario Giulianova adesso va a Basto poi è il Matelica Alfadini poi va a Montegiorgio e poi avrà l'Agnonese in casa insomma il calendario non dà neanche una grandissima mano rivediamo l'episodio da Moviola poi andiamo in pubblicità lo dico questo a beneficio di Maurizio Daquini in regia che saluto e che ringrazio allora io devo dire la verità l'intervento c'è e forse per la dinamica è da rosso come poi ha deciso Manzo di Torre annunziata però quello che dice Giglio non è campato per aria cioè può sembrare un intervento cattivo ma non lo è almeno nelle intenzioni poi che la dinamica porti a farlo sembrare un po' più cattivo di quello che è è vero però a me non mi sembrava è rosso non so è un attaccante quindi poco propenso alla difensiva perché se uno ci fa caso la poteva dare anche l'ammunizione perché se uno rivede le immagini il numero 8 del Porto San Delpidio quando andava a tirare Federico Di Paolo ha fatto più o meno la stessa entrata nei confronti del giocatore giuliese l'hanno neanche munito qua la palla l'ha presa dopo il giocatore di Giuliano quindi il giocatore non poteva anche fare più niente con la palla tra virgolette rivedendo così è stato un po' troppo irruento è stato irruento ecco è proprio plateare davanti all'arbitro però se avesse temborgiato di più però ecco come diceva Giustamente Francesco l'attaccante l'attaccante tant'è vero che ha pagato un eccesso di generosità sì sicuramente tant'è vero che in fase di montaggio del servizio si sentono anche le voci dello stadio c'era chi gli diceva guarda tienilo lì perché tanto non va da nessuna parte cioè era in una zona quasi morta la palla l'aveva persa perché il terzo giocatore di Giulianova avrebbe sicuramente preso lui il pallone sì è evidentemente un eccesso di generosità era stato anche la stanchezza era stato triplicato sì era stato triplicato però comunque bravo questo Niane che è un classe 2001 che oggi non solo ha fatto gol ha creato tanti problemi è entrato nel corso della ripresa ci ha detto Paolo Renzetti sottolineatolo perché è un ragazzo veramente veramente molto molto interessante comunque va bene noi ci fermiamo per la pubblicità a rientro andiamo a Fiuggi per vedere la sconfitta del Pieneto contro il Fiuggi a tra poco teoricamente cosa per creare eccoci rientrati in seconda parte dell'Abruzzo del pallone se vince le prossime tre poi perde le altre non so se si riferisce al Notaresco o al Giulianova forse dai rispondo sul fatto del Notaresco che abbiamo parlato le prossime tre partite vabbè è chiaro è chiaro se vince le prossime tre poi perde le altre ma cose che non ci auguriamo ovviamente sì è chiaro che statisticamente e se Matelica regalate se perdono sempre fino alla fine del campionato Pietro cosa sto programmando società lo sbando incapace di programmare con troppa pescaresità nelle decisioni però a proposito di Pineto ci andiamo a vedere la sconfitta di Fiuggi per 2 a 1 Stefano Recanati non comincia nel migliore dei modi la maulo bis a Pineto che esce sconfitto per 2 a 1 dallo stadio capo Iprati contro l'atletico Terme Fiuggi in una gara in cui l'undici biancazzurro avrebbe meritato il pareggio tutti a disposizione per il mister che si schiera con il 4 a 3 1 a 2 in difesa c'è la coppia Pepe Speranza a centrocampo con l'esperienza di Stefano Madia con Marianeschi e Campione a gire da mezzali in avanti a quadro agisce dietro le punte Tomassini e Di Gioacchino tutti a disposizione anche per mister incocciati il quale disegna la squadra con il 4 a 3 in difesa c'è Scalon a centrocampo Falasca Forgione e Papasario in avanti con Bomber d'Andrea ci sono Basilico e Macri il direttore di gara è Negrello di finale miglia primi 20 minuti di studio tra le due squadre con il Pineto che si fa preferire in fase di possesso palla con a quadro in molte occasioni libero di agire tra le linee ma al 24esimo arriva il primo squillo della gara di marca locale con Papasario che ci prova dal limite ma il suo tiro fa la barba al palo con Amadio Remo immobile alla mezz'ora nitida occasione per il Fiuggi con Forgione che viene liberato da Basilico in area di rigore ma il tiro del centrocampista Frusinate non inquadra incredibilmente lo specchio della porta due giri di lancette e a rispondere è il Pineto coast to coast di a quadro che entra in area di rigore e serve di Gioacchino ma il classe 2001 pecca di cattiveria sotto porta così sfuma un'occasione d'oro per i ragazzi di Amaulo la gara diventa vivace ma è un errore in uscita degli Adriatici a spianare la strada del vantaggio locale malinteso tra Tomassini e Amadio in mezzo al campo ne approfitta il Fiuggi che va subito al cross con Forgione in area di rigore dove rompe D'Andrea che di testa batteremo Amadio la risposta del Pineto è tutta al 42esimo in una punizione calciata alta da quadro la ripresa propone subito una novità nelle fila del Pineto c'è in campo d'Angelo al posto di Camplone il Pineto ci prova subito a rientrare in partita ma il tiro di Amadio dal limite è facile preda di Kingari poi la volta del Fiuggi con D'Andrea anche lui dal limite che impegna a terra l'estremoremo Amadio al quarto d'oro buona occasione per il Pineto prima è a quadro dal limite ad impensierire Kingari che si rifugia in angolo dalla bandierina è sfortunato il Pineto con il palo colpito da Di Gioacchino il Pineto spinge con più convinzione in questo secondo tempo chiudendo il Fiuggi nella propria metà campo Amadio crede nel pareggio ridisegnando la squadra passando al 4-4-2 al 36esimo però è ancora Fiuggi a farsi vedere in avanti questa volta con il centrocampista Papaserio che al volo non inquadra lo specchio della porta ma il Pineto non si dà per vinto e perviene al pareggio al 38esimo punizione del neoentrato Simoncelli il quale pesca in aria l'altro neoentrato Festa bravo di testa incrociare la palla e battere i kingeri il Pineto a questo punto vede la possibilità di portare a casa il pareggio ma da un fallo in una zona morta del campo ne viene fuori una punizione che fa la scapennella in aria per la sponda aerea di un suo compagno verso il secondo palo dove è appostato il solito da Andrea che fa esplodere il capo i prati a questo punto sembra finita per Pepe e compagni ma al cinquantesimo l'occasione del pareggio capita sui piedi Tomassini che si divora il gol del possibile 2-2 finale finisce con la rabbia del presidente Brocco e con il Pineto che dovrà tornare subito a lavorare per affrontare nel migliore dei modi il derby casalingo contro il Chieti Mister Amaulo un po' deluso dal suo nuovo debutto qui a Pineto Si è chiaro magari si aspetta subito un risultato positivo dopo un cambio il terzo cambio d'allenatore però come ho detto e dico ai ragazzi nessuno ha la pacchetta magica bisogna ripartire tutti insieme ritrovare un po' quelle certezze e solidità di squadra che possa far sì di fare prestazioni importanti e poi il risultato sono figli delle prestazioni Ecco avete anche approcciato bene la gara avete subito gol nell'unica azione del primo tempo del Fiuggi poi nella ripresa li avete chiusi lì c'è stato anche il gol del pareggio prima disattenzione vi ha puniti e vi ha fatto uscire sconfitti da questo campo comunque si può ripartire anche da una prestazione diciamo non deludente sicuramente la prestazione non è stata deludente perché la squadra come ha detto lei nella prima frazione pur giocando contro Vento ha concesso soltanto una palla a golle per di più per demerito nostro perché abbiamo perso una palla in uscita nella seconda frazione abbiamo giocato quasi sempre entro a metà campo del Fiuggi qualche ripartenza ci poteva stare però abbiamo preso un paio di pali tre quattro occasioni clamorose c'è stato quindi la squadra è una prestazione che l'ha fatta avrebbe meritato senz'altro almeno il pareggio ripartiamo dalla prestazione però dobbiamo lavorare ancora per trovare quell'equilibrio con le compattezza di squadra che occorre per fare prestazioni importanti per raggiungere risultati importanti Mister Incocciati gli abruzzesi le portano bene? Eh sì diciamo che mettiamola così dai però ci fanno soffrire sono vittorie che sono sempre figlie di di gare diciamo che giocate ad alto livello non solo sotto l'aspetto fisico ma anche sotto l'aspetto organizzativo il Pinedo nella fattispecie oggi ci ha messo in difficoltà come del resto noi abbiamo messo in difficoltà il Pineto in gran parte della gara e questo a San Ciro è quello che è poi quello che io ho sempre pensato in questo girone ci sono gli addetti ai lavori le società gli ambienti che prevalentemente vogliono un calcio bello da vedere un calcio costruttivo e devo dire insomma che io è il primo anno che sono in questa categoria e in questo girone rivedo molto del professionismo quindi sono contento anche se poi chiaramente la giornata di oggi è a nostro favore come dicevo prima ai vostri colleghi anche per un pizzico di fortuna che fino ad oggi non avevamo mai avuto quindi ci dispiace il Pinedo però insomma noi facciamo la nostra strada e cercheremo di andare più avanti possibile complimenti al Fiuggi di Incocciati che è una diciamo sorpresa di questo di questo campionato Luca sei d'accordo? sì ma ho saputo pure che non vanno più venire il trasporto all'acqua e Fiuggi in Abruzzo ah no? hanno bloccato al confine Abruzzo-Lazio ok ci ha perso Giuliano Nova ci ha perso il Notaresco Notaresco Pineto ci ha pareggiato ah basta acqua fiuggi acqua fiuggi indigente per gli abruzzesi hanno vinto a Città Sant'Angelo contro i Chieti l'unica squadra a vincere è stata la Vastese che attenzione tra due domeniche tra due domeniche giocherà a Fiuggi però il Pineto adesso scherzi a parte il Pineto continua ad avere dei problemi sì perché prima si ha parlato di spendi pure con Francesco sette sconvitti il Pineto in un giro non l'aveva mai fatta quindi un po' pesantina la quando c'è delle come si dice belle cartucce in avanti dello stesso fiumicino e l'ha dimostrato più volte come giustamente dice il Ministro oggi siamo stati anche più fortunati raccogliamo forse qualche cosa che d'altre parti ci hanno tolto però ecco vedere il Pineto si incende parlando che sta a 20 punti da Notaresco tre punti davanti al Fiuggi per come si erano erano le aspettative e poi rarsi anche le pretese credo che come organico il Pineto dovrebbe annoverare i primi 4-5 posti in classifica proprio in pianta stabile assolutamente hai dato hai dato una notazione statistica molto interessante che giro a Francesco caro Luca perché caro Francesco il Pineto ha perso come il Fiuggi sette partite ha perso come il Chieti sette partite ha perso come la San Giustese e come il Cattolica o queste numero di sconfitte non sono eh proporzionali mettiamola così eh alla caratura del Pineto assolutamente no io credo che il Pineto al di là della posizione di classifica attuale credo che sia una delle squadre che ha più qualità eh per quanto riguarda la la Rosa in totale nei giocatori a disposizione e proprio in termini di qualità per poter mostrare un bel gioco e credo che questo lo faccia sempre solo che al Pineto manca quello che si parlava prima del Giulianova manca un po' di carattere sì perché io credo che le partite al di là della qualità tecnica che uno possa avere se non c'è la volontà l'animo di poter tirar fuori tutto in 95 minuti si fa fatica a vincere solo con la qualità certo assolutamente quindi che a Pineto credo che manca questo e anche vedendo i golli che prende soprattutto in fase eh di possesso che hanno perso palla è questione di attenzione eh hanno fatto sì che la la partita propendesse un attimino dalla parte del fiuggi certo eh oh Andrea ora al netto del spiritoso giustissimo embargo eh minerale di acqua minerale però effettivamente eh siamo al terzo allenatore in stagione ma soprattutto eh il rischio è che questo Pineto stia in una specie di limbo non ha più l'obiettivo Coppa Italia eliminato dal Tolentino di fatto non ha obiettivo di vittoria del campionato ha l'obiettivo di entrare nell'otto dei playoff che contano ma relativamente eh adesso però manca praticamente un girone intero in cui le motivazioni vanno trovate eh sì devono trovarle devono trovarle assolutamente peraltro sai saltano gli allenatori e questo poi espone sempre di più anche le responsabilità dei calciatori che c'erano anche prima ma oggi una difesa esperta come quella del Pineto dopo che è tanto inseguito fai l'1-1 e becchi gol da palla inattiva in quel modo lì ci sono giocatori esperti e comunque è un fatto anche di organizzazione difensiva da palla inattiva è quello un gol che non si può prendere soprattutto in quel momento e dopo quella rincorsa il gol dell'1-0 nasce da un errore nel passaggio di Tomassini mi pare verso di Giovacchino e da lì Fiuggi riparte recuperando palla alti sono arrivati subito in porta hanno segnato il gol dell'1-0 lo stesso Tomassini il centroavanti che tanto era stato aspettato e che ben si era presentato si è divorato un gol davanti al portiere sul 2-1 c'è bisogno anche da parte dei giocatori di assumersi determinate responsabilità il Presidente non sta lesinando sforzi sicuramente a questo Pineto all'ambiente Pineto manca un po' di quella cattiveria da infondere ai giocatori per arrivare ai grandi risultati però è giusto che una società che ha speso così sia in parte retribuita tra virgolette con delle prestazioni migliori e dico che se non si può vincere il campionato se la Coppa è sfumata almeno salvare la stagione con una qualificazione buona qualificazione ai play-off questo a Brocco bisogna concederlo perché insomma altrimenti è una stagione totalmente buttata alle ortiche anche perché a mio avviso il Pineto deve da questa stagione cercare di salvare il salvabile tenere poi dei giocatori per tentare l'anno prossimo il salto di categoria perché io penso che questa società abbia le potenzialità per ambire a un salto di categoria però i giocatori devono dare di più e l'ambiente deve anche prepararsi in toto a un'eventuale lotta per il salto di categoria non dico il salto ma lottare essere competitivi perché purtroppo il Pineto in queste stagioni c'erano anche altri obiettivi mai ha lottato per il vertice quest'anno doveva accadere e non è successo però bisogna prepararsi a farlo a farlo nelle prossime stagioni assolutamente poi peraltro visto che Andrea ha citato il gol nel finale mancato da Tomassini però Luca ti faccio una domanda un po' provocatoria fosse arrivato anche un 2-2 non è che sarebbe cambiato chissà che cosa cioè una squadra come il Pineto a Fioggi deve vincere sicuramente anche col cambio d'allenatore qualcosa in più si poteva sicuramente fare soprattutto che avevi pareggiato e ti dovevi giocare in ultimi minuti affinché potessi vincere la partita invece fa l'accendere presa il gol subito subito dopo quindi significa che come dicevano giustamente Francesco e Andrea anche un po' a prescindere qualità tecniche un po' di disattenzione a livello mentale una certa applicazione in più ci vorrebbe perché io credo che Amaddio Marianeschi Bianciardi a quadro io penso che poche squadre possano annoverare questi giocatori oltre ad avere altri calciatori in panchina con Pepe dietro e lo stesso l'ex Terramo Speranza credo che sia una squadra se in genere parlando non me ne vogliono chi sta lì a Pineto ma al minimo secondo me potrebbe avere 34-35 punti poi a prescindere che erano sempre 10 punti dietro al notaresco ma ciò perché il notaresco sta facendo lo straordinario perché se no un campionato potrebbe essere tranquillamente sui 40-42 punti la prima e gli altri giocare a 36-37 punti e arrivare fino alla fine Andrea ma domani TV6 seguirà che ti va a stese sì certamente no mi ha sorpreso il fatto che oggi Amavolo ha cambiato atteggiamento tattico questa squadra ha giocato quasi sempre con il 4-3 oggi ha giocato con il trequartista a quadro e con due punte mettendo un under come Di Giovacchino più Tomassini probabilmente ma non abbiamo parlato direttamente con Amavolo questo è dipeso dal fatto che Amavolo ha voluto sfruttare un po' di più la grande qualità che ha a centrocampo perché oggi in panchina era Bianciardi con il centrocampo a tre nelle ultime partite Bianciardi a quadro sono stati sacrificati magari giocando un under più Amadio e Marianeschi forse con il rombo di centrocampo Amavolo ha cercato di sfruttare di più la grande qualità che c'è a centrocampo anche perché rinunciare a quadro in questa categoria forse è davvero troppo però questo non ha funzionato non solo la strutturazione degli under può essere rivista in qualche modo magari rimettendo Shiba in porta anche se Remo Amadio è da grandi certezze perché a quel punto con a quadro Tomassini e uno che sia una seconda punta over magari Alessandro insomma il potenziale si eleverebbe non di poco anche se oggi poi è entrato festa e ha segnato però il potenziale c'è per lavorarci o fatemi dare una una notazione di servizio a chi ci sta scrivendo ma via sms non via whatsapp via sms abbiamo un problema con gli sms quindi se avete scritto vi chiediamo scusa ma non riusciamo a riceverli gli sms normali tradizionali i whatsapp non c'è problema però magari qualcuno da casa dice io ho mandato però non avete mandato proprio non ci stanno arrivando o siete curiosi di sentire cosa dice Silvio Brocco oggi è arrabbiatissimo alla fine della partita di Fugio lo ascoltiamo Presidente Brocco l'annata non è ripartita con il piglio giusto una sconfitta qui a Fugio l'abbiamo vista abbastanza arrabbiato alla fine della gara è arrabbiato deluso sconfortato perché chiaramente dimostriamo di essere una grande squadra giochiamo bene però poi siamo penalizzati da degli errori elementari di alcuni singoli la squadra deve rivedersi si deve ricompattare devono parlare tra di loro perché dimostriamo tante cose belle però stiamo lasciando troppi punti oggi la stessa cosa abbiamo giocato bene non abbiamo messo dentro due palle dentro dentro la porta e questo ha dell'incredibile ci fa star male però il mister con tutti gli atleti adesso sanno quello che devono fare è sconfortante sconfortante però ci dobbiamo riprendere ma siamo penalizzati ripeto da da errori ingenui come il secondo gol determinato da un punizione che ha proprio dell'elementare non si può commettere un fallo con una palla già già andata fuori ha parlato con i ragazzi parlerà ancora con loro no loro sono sconvolti quindi io li devo rincuorare un po' però al di là dello sconforto il calcio è questo e dobbiamo riprenderci il più presto possibile sconfortato si è definito il presidente Brocco ma Andrea io ho visto che ti hai seguito con particolare attenzione soprattutto la parte finale e so che c'è una parte che io condivido che non ti ha convinto proprio l'ultima parte dell'intervista al presidente Brocco che se dovessi dargli un consiglio dovessimo noi dargli un consiglio gli diremmo proprio di non fare e poi anche Luca e Francesco sono d'accordo perché ho visto i loro sguardi non rincuorare i calciatori presidente questo è il consiglio bisogna pretendere di più arrabbiarsi e pretendere di più che poi che si perde è chiaro che sono dispiaciuti i giocatori e dispiaciuto il presidente però più che rincuorare in questo contesto bisognerebbe pretendere di più arrabbiarsi e pretendere di più probabilmente anche lì bisogna fare un ulteriore scatto ci chiedono se facciamo una trasmissione solo per Chieti Vastese no però domani sera trovate servizio su Youtube sui nostri telegiornali tutto quello che volete però una trasmissione intera no posso dire una cosa io magari qualcuno ci avrà tenuto a giocare con l'Epifania però domani il turno dell'Epifania c'è anche tanta Serie A con il big match anche tra Napoli e Inter un bel Chieti Vastese oggi avrebbe avuto sai quanta eco sì assolutamente in questi casi rincuorare te rincuoreresti ma che no utilizzando il Presidente come si comporta tutti gli anni lo dicono le cronache una persona seria affidabile e preciso credo che qualcuno abbia dare anche qualcosina in più soprattutto sapendo di avere un Presidente che è disponibile su tutto soprattutto per i calciatori guardano l'aspetto economico e lui una garanzia come professionalità e come rispetto e come è impostata anche la struttura del Pineto le strutture quindi credo che più che ringuorare ogni tanto dice raga fino a un certo punto va bene ma dopo di che basta arriva a un punto che comincerà a fare qualcosina di più ma più che altro non che lo pretendo è perché anche una riconoscenza generale di tutti i lavori che lui sta facendo come programmazione anche perché Francesco il giorno del ritorno di Daniela Maulo sulla panchina del Pineto il Presidente Brock che c'ero io intervistato da me aveva detto testuali parole è l'ultima volta che un allenatore un singolo paga per gli errori di tutti quindi adesso non ci sono più scusanti per nessuno assolutamente sì ribadisco quello che ho detto Pocazzi i gol presi sono questioni di disattenzioni singole come ribadiva anche il Presidente sul fattore punizione laterale dove io conosco Amaulo ed è miticoloso sulla preparazione di queste cose che si vuol dire soltanto che non c'è attenzione giusta per dire ora non prendo gol non è questione di preparazione tattica ora non prendo gol è quello che mi riferisco anche alla voglia di mettere in campo quel cosino in più che ti permette di poter raggiungere un obiettivo un risultato se no l'oasi felice Pineto resta nulla eh sì anche perché voglio dire di cam in pacchina quest'anno siamo full a Pineto prima Epifani poi Rachini adesso Maulo insomma quindi tutta questa colpa non sarà solo ed esclusivamente degli allenatori ecco una domanda Andrea sei sicuro che per costruire un gruppo vincente basti solo sforzo economico assolutamente no assolutamente no il notaresco è la situazione più chiara c'è un esempio attuale in questo raggruppamento non è la squadra più tra virgolette costosa ma si è costruito un gruppo importante quindi è chiaro che non serve soltanto quello altrimenti ad esempio Canilla Amaterica piuttosto che collezionare secondi posti comunque grandissime stagioni magari sarebbe arrivata una volta la promozione però è chiaro che anche quello serve a Pineto ci sono queste potenzialità lo dice l'organico di quest'anno del Pineto bisogna però fare meglio a 360 gradi perché la classifica o meglio i punti perché il notaresco rischia poi di fuorviare nella valutazione il notaresco ha decisamente mettiamo la classifica e non consideriamo virtualmente il notaresco che sta facendo un campionato straordinario 27 punti non dicono non dicono quello che doveva essere la stagione del Pineto Pineto doveva stare più vicino togliamo il notaresco ma doveva stare ben più vicino a Matelica e Recanatese 10 punti di ritardo da questo Matelica non dal Matelica dell'anno scorso che era sicuramente più forte ma da questo Matelica che è comunque una squadra forte 10 punti sono troppi quindi bisognava fare meglio assolutamente ci fermiamo per l'ultima volta poi al ritorno la partita più scoppiettante della giornata quella tra Campobasso e Avezzano risolta in maniera incredibile poi abbiamo anche delle novità per quanto riguarda il mercato del Tero ma ci vediamo tra poco eccoci rientrati l'ultima parte dell'Abruzzo del pallone tra poco Campobasso-Avezzano una partita incredibile però intanto vediamo qualche news di mercato per quanto concerne il Teramo che tornerà a giocare settimana prossima trasferta contro la Sicula Leonzio torna a giocare la Lega Pro dopo la lunga pausa peraltro condita anche dallo sciopero sulla defiscalizzazione che ha fatto saltare il turno del 22 che si recupererà il 22 gennaio allora partiamo dagli attaccanti sono vicini i due del Catania lo sapete insomma è oramai questione consolidata Barisic e Curiale prossima settimana dovrebbe essere decisiva per far arrivare i due attaccanti Barisic non è proprio una prima punta ma è un giocatore offensivo che può dare sostegno a Magnachi che in questo momento è il titolare mentre Curiale è proprio una prima punta a tutti gli effetti 32 anni per Curiale grande esperienza questa mattina c'è stata anche l'amichevole con la Berretti Ottoreti per la formazione di Tedino che va verso il ritorno al 4-3-1-2 quindi il modulo con il trequartista lasciando per il momento accantonato le due sottopunte con l'unica punta centrale anche oggi Magnachi e Birligea che è un ragazzo un prospetto molto interessante però siccome è insomma un'esigenza dopo l'infortunio di Luca Di Matteo quella del terzino sinistro perché su quella parte di campo c'è il solo Alberto Tentardini e allora il teramo va su Sergio Contessa giocatore della Feral Pisalò classe 1990 29 anni per Contessa la Feral Pisalò che ha un contratto fino al 2021 ma potrebbe raggiungere qui è in maglia Padova le immagini che state vedendo Contessa però potrebbe raggiungere presto la formazione di Bruno Tedino è certamente un laterale di grandissima esperienza con campionati ottimi alle spalle alla Feral Pisalò potrebbe essere in uscita e con la Feral Pisalò peraltro ci sarebbe anche il discorso legato a Riccardo Martignago che è in uscita dal teramo che ha un contratto fino al 2021 neanche a farlo apposta quindi ha un contratto di ugual lunghezza e dunque potrebbe o essere preso singolarmente Contessa oppure magari è un'idea rientrare all'interno di uno scambio con Martignago che va a Salò alla Feralpi e Contessa che raggiunge l'Abruzzo questo ve la diamo perché come ci è arrivata questa notizia che potrebbe essere interessante per i tifosi del teramo comunque detto questo ne continueremo a parlare martedì sera dalle 21 per un'ora con Proteramo che ritorna dopo la pausa andiamo all'uovo Romagnoli di Campobasso dove l'Avezzano fa davvero un'impresa perché era sotto praticamente al novantesimo per 2 a 0 finisce 2 a 2 il servizio follia della Befana per il Campobasso che impatta contro un Avezzano non eccelso dal punto di vista tecnico a cui si riconosce il merito di averci creduto fino all'ultimo secondo finisce 2 a 2 con gli ospiti che pareggiano nelle battute finali di gara giornata gelida circa mille spettatori una manciata da Avezzano la curva nord-scorrano tributa un pensiero a Nicoletta Valente sfortunata tifosa del Campobasso deceduta nella notte di Natale per una tragica fatalità dirige il signor Rispoli di Locri a cominciare meglio sono gli ospiti vicini al gol al terzo la punizione di Quadrana la pala carambola sulla testa di Candelori che rischia seriamente di segnare nella porta sbagliata dal corner che ne segue i rossoblu sono un po' svagati dopo una serie di rimpallici alla conclusione di Di Curzio respinta secondo gli Avezzanesi con un braccio da Candelori gli ospiti chiedono a gran voce ma Rispoli fa capire che è tutto nella norma quasi al decimo conclusione centrale di Candelori facile la presa per Camerlengo un minuto più tardi è Zammarchi a ritagliarsi uno spazio ma defilato manda la sfera alta sopra la traversa partita equilibrata e divertente l'Avezzano viene in Molise per fare punti perché lo impone la classifica al tredicesimo azione veloce del rossoblu da Alessandro a Candelori che riesce ad allargare per Zammarchi il quale conclude e segna favorito senza dubbio dalla deviazione di Magri che mette fuori causa Camerlengo secondo gol consecutivo per l'attaccante Bebi rossoblu il campo basso è in partita e potrebbe già bissare al ventesimo e Cogliati a intraprendere un'azione personale dopo aver saltato Magri riesce ad andare via di Giacomo la corsa prosegue una volta in aria la punta di casa manda fuori di un soffio lupi bene anche se gli abruzzesi che al ventunesimo perdono il tecnico Meco Monaco espulso dalla panchina sfiorano il pari con un buon cross dalla sinistra di Di Giacomo su cui si tuffa traditi mandando a lato forse di un metro l'azione si capovolge sono i rossoblu a invocare un calcio di rigore da cross di bontà da destra la palla rimbalza a terra e giunge ad Alessandro che viene ostacolato da Di Gianfelice la punta di casa protesta ma non ottiene il rigore sperato quando attacca il campo basso è anche spettacolare al ventottesimo velo di Alessandro per Cogliati che conclude il tuffo di Camerlengo nega il gol i rossoblu meritano di trovarsi avanti al trentaseiesimo palla per il destro di Alessandro con sfera non di molto a lato fine primo tempo con i campobassani in vantaggio di misura con le immagini di Francesco Di Rienzo nella ripresa dopo due minuti tolto un gol a Zammarchi dopo il cross di Alessandro da sinistra secondo l'arbitro la punta numero undici avrebbe commesso fallo su Siragusa protestano i giocatori di casa l'Avezzano cambia dal sesto dentro Masini al posto di Rabbeni brividi di freddo a Selvapiana qualcuno provocato anche dal portiere Natale che al settimo dal rinvio rischia grosso con Di Curzio lì nei pressi che tocca il pallone al nono scalda il destro Alessandro risponde presente Camerlengo quattordicesimo il campo basso ipoteca la vittoria ingresso di Alessandro in area e passaggio orizzontale mal gestito dalla difesa ospite ne approfitta Candellori che calcia incontrando la deviazione del legno ed un balletto della palla sulla linea di porta prima che il cuoio varchi la linea fatidica 2-0 con gol di uno dei più volitivi della squadra nell'Avezzano fuori Puglielli e Siracusa dentro Cancelli e Puglielli omonimo dalla panchina l'Avezzano costruisce poco o nulla al 26esimo e Cancelli a effettuare una scivolata senza però impattare la sfera Cudini cambia la prima volta al 29esimo fuori Cogliati dentro Musetti a seguire negli ospiti fuori Morales dentro Cras mentre Cudini avvicenda anche Menna che si è fatto male per inserire Sbardella Natale sugli scudi al 33esimo spazio interessante in area per Agate respinto sul primo palo dal portiere di casa il Campobasso si riserva altri spunti nel finale siamo al 90esimo quando si potrebbe triplicare Camerlengo a servire involontariamente Musetti il quale sbaglia nel servizio successivo ad Alessandro e non calcia in porta dentro anche la barba al posto di Van Zan mentre al 92esimo traditi dell'Avezzano viene espulso per somma di ammunizioni causa un fallo su Candellori nel recupero succede l'imponderabile comandati 6 minuti il Campobasso involontariamente prepara la frittata a se stesso al 94esimo da una punizione dalle retrovie salta Magri favorendo la sforbiciata di Dijan Felice che vale il primo gol ospite il gioco riprende e di Rosso Blu accusano un minuto di follia al 96esimo vedete come Candellori non riesca a controllare un pallone poi amministrato e lanciato da Cancelli all'indirizzo di Agate su cui in area di rigore Pistillo frana l'arbitro indica il dischetto a Selvapiana se possibile il gelo aumenta dal dischetto e Agate che segna il punto del clamoroso 2 a 2 non c'è più tempo l'arbitro decreta la fine i Rosso Blu accusano un grosso calo mentale nel finale trascorreranno un'epifania molto amara la Vezzano esce da Selvapiana decisamente rinfrancato nel morale vorrei sottolineare comunque la prova dei miei ragazzi perché noi il primo tempo stavamo sotto però penso che avevamo fatto una buona partita avevamo mancato anche qualche gol nel primo tempo siamo stati sempre in partita la squadra non si è mai disunita fino alla fine nonostante poi abbiamo perso uno e mezzo al campo abbiamo avuto un pizzico di fortuna che era da tempo che non girava dalla nostra parte è un risultato che ci dà morale e speriamo di proseguire su questa scatola perché questo è un buon punto contro una squadra sicuramente forte come sanno tutti e quindi siamo molto contenti sono contento per i tifosi che si sono fatti questa trasferta sono contento per la società per il presidente che comunque fa tanti sacrifici sono contento per tutti e dobbiamo proseguire su questa strada a noi siamo stati bravi a crederci fino alla fine questo per me è un segnale forte i ragazzi mi hanno dato un grande segnale avevo chiesto questo prima della partita perché per salvarsi bisogna lottare con il coltello tra i denti e loro l'hanno fatto adesso ci godiamo questo pareggio che è un bel pareggio soprattutto come è arrivato e dobbiamo iniziare a lavorare per la prossima partita la squadra devo dire che comunque sotto l'aspetto atletico l'ho trovato molto bene hanno lavorato tantissimo perché comunque con qualche ragazzo mi sentivo chi mi ha preceduto secondo me è stato anche un pochettino sfortunato perché magari qualche partita meritava qualcosa in più ho ritrovato una squadra che sotto l'aspetto del morale era un po' giù ma è normale che poi quando c'è un cambio c'è sempre un qualcosa che scocca all'interno dello spogliatoio questo c'è stato i ragazzi mi hanno dato un bel segnale e li voglio ringraziare pubblicamente una partita finita a volte nel caccio capitano cose imprevedibili si fa fatica anche a analizzarle sicuramente è un nostro difetto al di là di come è andata oggi la partita come abbiamo detto era finita ma è un nostro forse difetto la gestione nei momenti cruciali di alcune situazioni alcune palle su questo dobbiamo migliorare molto però non ci fa fatica analizzarla potremmo stare più attenti potremmo essere più tutto ma in un minuto una squadra come la nostra o anche altre squadre credo fa fatica a pensare che si possa rimettere in piedi o dar fiducia a una squadra con un uomo in meno e sul 2-0 al cinquantesimo al secondo tempo quindi faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno fatto la partita questo sì sicuramente incazzati a dir poco per come è finita la partita o delusore non potrebbe essere altrimenti Mirko Cudini noi ci fa particolarmente piacere questa rimonta clamorosa dell'Avezzano e nessuno se lo aspettava però insomma sono stati 5 minuti in cui diciamo sono saltati un po' tutti gli schemi sono saltati forse i giocatori sono svenuti sì tutti i riferisci io penso Musetti quel 3-0 io penso se dovesse ricapitare 300 volte non ha scaricato la palla però sembrava il difensore dell'Avezzano intanto ti chiedo un pronostico su Chieti Vastese poi te lo faccio dare ti faccio terminare il concetto è come ciò che ha fatto Musetti va a fare il difensore dell'Avezzano che è svenuto sul 2-0 l'appoggi ma non perché cioè venendo a dire filmato non è che io sono un professore però in certe situazioni sai che giochi a campo basso o la proteggi bene la palla la calci fai ripartire l'azione sono delle disattenzioni come diceva giustamente Francesco caperano a tutte le squadre ma fino a prova contraria diventando soltanto per la categoria perché per i costi che sostengono i presidenti credo che qualcosa in più a volte dovrebbe agli starci una supplica meno chiacchiere lo so però caro amico da casa sono 5 servizi e un'ora e mezza di trasmissione se non approfondiamo un po' noi però un bel punto per l'Avezzano mettere giustamente il mister Mecomano che faccia in bocca al lupo per il rientro sono contento che farà molto morale soprattutto in prospettiva nella prossima partita con la San Giustesco uno sconto diretto vincendo gli scavalca quindi penso se tutto lavori meglio durante le settimane quando non berca questo è poco come sicuro ciao Francesco buon anno anche a te come ho detto anche prima no domani non ci sarà una diretta stadio per Chieti Vastese chiaramente no però ci sarà il servizio saranno le interviste ai nostri telegiornali anche sulla nostra pagina YouTube sul profilo Facebook sul sito tv6.it una rimonta veramente inaspettata Francesco però non so in questi casi è demerito il 50% da una parte di una e merito di averci creduto fino alla fine di una squadra che era rimasta anche in 10 e si è stato espulso anche traditi sì di averci creduto assolutamente sì anche perché mancavano 5 minuti di recupero stare sotto 2 a 0 uno in meno a campo basso poi avrebbe distrutto un pochettino tutti però più che altro qualche episodio come il gol che sul 2 a 1 al 92 credo poi dopo devi gestire meglio gli ultimi 3 minuti finali l'entrata quella di Pistillo per calcio e rigore è un po' pentata anche perché fondamentalmente sul 2 a 1 palla al centro è tua quindi devono passare quei 2 minuti in maniera molto serena fuori dall'aria e fuori dalla tua metà campo in quello c'è stato un po' di casino al centro campo che hanno fatto sì che si creasse l'azione gol finale che ha distrutto tra l'altro i 90 minuti ottimi del campo basso nonostante la Vezzano non abbia demeritato un 3 a 0 come poteva succedere nell'occasione sbagliata certo Ficcio scusami fatemi dire che comunque a campo basso se ne vedono perché io ricordo anche quel 4 a 4 col Fiuggi molto accaduto nel finale oggi 2 a 0 al 95esimo al 97esimo 2 a 2 comunque se ne vedono di tutti i colori a campo basso si vede che come ha detto Cudini quando cala l'attenzione finisce tutto per l'ora era finita la partita sullo 2 a 0 con il gol mangiato e il 3 a 0 e alla fine ci hanno lasciato le penne assolutamente per non parlare di quello che ha combinato Musetti se sì sì è fatti che è da ridere solo che voleva fare giocava da solo e prova a pensare non è proprio un po' ci promettiamo un secondo visto che te l'hanno chiesto alla partita di domani chiedi va stese se vuoi come ti hanno chiesto da casa un pronostico io più prosaicamente ti chiedo che partita ti aspetti ma tutto lo hanno vato a vederla almeno mi auguro di vedere una bella partita sicuramente è una squadra più grindosa e determinata con 2-3 settimane in più di allenamento dal mister di meo tra virgolette anche un ex quindi un po' il dente avvelenato nel senso buono calcisticamente parlando ci può stare hanno rinnovato penso 15-20 giocatori il lacchietti ma non so nella tantissima sono tanti quindi ho un organico veramente ora da posti medio alti della classifica perché avere davanti San Rizzo Sivilla e Traini penso che le ultime sotto ingressivi non ce l'abbia nessuno e Lavastese d'altro canto è una squadra costruita per fare bene poi non è partita nel migliore dei modi anche perché poi il mister Amelia avendo fatto altri gironi non conosceva bene quest'agonismo e la professionalità con Marietta e il mister ingocciati prima perché ci sono squadre che sono idoni a certi gironi e ad altri fa un po' più fatica certo però ecco è sempre un derby che come organici sono due ottime squadre credo che domani una vittoria di una delle ambo potrebbe dare un valore aggiunto al campionato per Lavastese in ottica pre-off e per Ricchietti in ottica salvezza un bareggio li tiene ancora lì dire abbiamo levato una partita ce la giocheremo fino alla fine per raggiungere gli obiettivi secondo me anche il fatto di giocare con 24 ore di ritardo sulle altre conosce anche i risultati di tutte le altre tue avversarie sia del Chieti che della Vastese potrebbe essere un'indicazione importante peraltro in casa Vastese mancherà Giorgi squalificato in difesa e poi gli infortunati Pompei e Pollace per quanto riguarda il Chieti c'è un dubbio modulo potrebbe esserci un 4-2-3-1 in cui tutti gli avanti sarebbero presenti Traini Sivilla Franchi San Rezzo oppure potrebbe giocare con il Tridente a quel punto potrebbe stare fuori Franchi potrebbe entrare in corso d'opera Francesco anche a te chiedo un'indicazione rapidissima perché siamo in chiusura di che partita ci aspetta domani Sicuramente è una partita bella da vedere infatti andrò con il direttore di Pasquale e andremo a vedere la partita perché sarà un bel derby naturalmente cosa mi aspetto ti dirò non lo so perché vedo che a Chieti hanno cambiato tanto quindi dall'ultima partita che ho visto che è quella contro la Jesina sarà una squadra totalmente nuova quindi sarà molto bello anche da parte mia vedere i nuovi innesti fatto sta che credo che il Chieti abbia due giovani importanti di cui uno è Bratelli che tra l'altro è adattato a terzino e sinistro e lui nasce come Mezzala e l'altro è Fantauzzi che credo che sarà che fu espulso nella gara d'andata se non ricordo male sì credo che per Fantauzzi saranno gli ultimi mesi in queste categorie nei direttanti poi è pronto al grande salto è pronto al grande salto sì assolutamente ha una qualità corsa forza un ragazzo del 2000 che anche se quest'anno è in prestito in D per il primo anno ha dimostrato di poter fare qualcosa in più Andrea chiedo un semipronostico non un pronostico una considerazione sulla partita sulla partita di domani anch'io sono curioso di vedere dopo la pausa il lavoro di Pino Di Meo nel corso dei giorni perché oramai è un po' di tempo che è arrivato a Chieti come evolve intanto vedremo tanto talento vedendo il parco attaccanti Palumbo Esposito e Dos Santos da una parte quello rinnovato del Chieti se la classifica fosse un po' diversa per il Chieti ma quella classifica dipende dalla prima parte della stagione quando c'era un altro organico questo sarebbe un confronto playoff e non è detto che non lo diventi se il Chieti come io ritengo risalirà la classifica certo dovrà sbagliare poco la squadra di Di Meo che ha come primo obiettivo la salvezza e deve uscire fuori e domani in caso di vittoria lo farà fuori dalla zona playoff Lavastese è lì che lotta per i playoff e domani vincendo potrebbe avvicinarsi al quinto posto quindi sarà una bella partita ripeto con tanto talento un talento in quello che vedremo in campo che non rispecchia la classifica in parte di una squadra Lavastese che comunque più o meno è lì ma soprattutto del Chieti perché ritengo che il Chieti sarà destinato a risalire di gran carriera di gran fretta questa classifica dopo il mercato che ha fatto assolutamente o peraltro prima ho detto se non ricordo male ricordavo malissimo perché furono espulsi Bardini e Vittiglio però è rientro dopo le vacanze anche per conduttori giornalisti e quant'altro ci perdonerete se magari qualche minima stupidaggine l'abbiamo detta va bene noi siamo in chiusura vediamo il prossimo turno perché il prossimo turno è interessantissimo sono due derby abruzzesi eccoli qua Atletico Portoso Antepidio Cattolica Lavezano in casa con la San Giustese Iesina Vasto Girardi Materica Montegiorgio Agnonese Reganatese ecco il primo Pineto Chieti si gioca di nuovo a Pineto come fu nella gara di andata quando giocava in casa il Chieti ma si giocava comunque a Pineto il Notaresco ospita il Campobasso e vi posso garantire che a Notaresco questa partita l'avevano cerchiata sul calendario il 12 gennaio buoni bisogna restare Tolentino Fiuggi ecco l'altro derby alla Ragona Vastese Giulianova queste insomma sia Vastese che Chieti poi vedremo anche la luce del risultato di domani due derby super sfida a Notaresco è un match delicatissimo per l'avezzano perché è un confronto diretto in chiave play out sei squadre tutte dovranno stare sul pezzo perché sarà una gran giornata assolutamente è tutto per questa sera io ringrazio Luca Di Pascuale ciao Luca grazie a voi è sempre un piacere grazie a Francesco Daniello ciao Ciccio grazie per essere stato con noi buon lavoro ad entrambi grazie a Andrea Costantini ciao Andrea ciao ci vediamo domenica torna anche il terro sì sì in trasferta a Lentini contro la Sicula Leonzio vedremo un po' poi anche dal punto di vista del mercato se ci saranno novità grazie alla regia grazie alla scuola di TV6 grazie a voi che ci avete seguito ci vediamo domenica prossima a 19.30 TV6 canale 14 del digitale terrestre buona serata grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori